Stefano Sensi, benvenuto in Nero Azzurro. Grazie. Allora, partiamo da queste tue prime sensazioni, insomma, hai avuto modo di vedere la sede nuova, hai già incontrato anche qualche tifoso Nero Azzurro, insomma, l'avventura interista sta per cominciare. Sì, sono molto contento, ho già visto qualche faccia della famiglia nuova. Ho incontrato persone molto socievoli, molto alla mano, persone che ti fanno sentire a tuo agio. Sono molto contento di questo, anche qualche tifoso mi ha fatto una bella impressione. Mi hanno accolto alla grande e questo è già un bel punto di partenza. L'inizio della nuova stagione è ormai dietro l'angolo. Che cosa ti aspetti dai tuoi compagni nuovi, dal mister Antonio Conte e appunto poi da quello che sarà un'estate ricca di tanti impegni per poi prepararsi a una stagione importante su tutti i fronti? Sì, mi aspetto un'annata dura, un'annata di grande lavoro perché l'Inter vuole tornare ad essere quella che si merita di essere. Una grande squadra a livello europeo e quest'anno ci sono tutti i presupposti per fare bene e per far sì che questo succeda. Sei partito da Urbino attraverso tante maglie, San Marino, Cesena, Sassuolo, adesso l'Inter e la Champions League. Insomma, che sensazione ti dà essere arrivato in un club così e soprattutto avere la possibilità di giocare anche la Champions? Ma la sensazione è indescrivibile perché molto sinceramente non me lo sarei mai aspettato. Ora sono qua e cercherò di fare il mio meglio, di lavorare duro per farmi trovare pronto dal mister. A proposito di mister, trovi Antonio Conte, hai già avuto modo di parlare con lui, insomma è un allenatore che è tornato in Italia dopo un'esperienza anche all'estero, la nazionale. Insomma, che cosa ti stuzzica di più nell'iniziare una stagione con lui? Ma sicuramente è un allenatore importante, un allenatore che ha una mentalità vincente, che è quella che serve nel calcio di oggi. È un allenatore d'impatto, un allenatore che ti fa crescere e non vedo l'ora di iniziare. Un ultimo messaggio, te lo chiedo per i tifosi, insomma già prima ci dicevi della grande accoglienza, insomma la stagione sta per cominciare, la campagna abbonamenti è andata sold out, insomma c'è davvero tanta voglia di cominciare. Sì, sicuramente per noi è una grande cosa perché avere tutto questo calore dai tifosi ti dà quello stimolo in più per poi dare il massimo in mezzo al campo, quindi siamo molto contenti di questi e speriamo di portare grosse soddisfazioni. Grazie Stefano. Grazie a voi.